No è caduto da là ed è risalito ma non la vede 3,2,1 Ciao a tutti Benvenuti nel nostro nuovo video assaggio Finale abbiamo fatto tutti assaggi di chips snack salati E' una bevanda Oggi faremo un video assaggio un po' diverso nel senso che sanno tutte cose dolci Procediamo sì col primo assaggio Primo Yogurt fetta al latte kinder al limone Traduco kinder fetta al latte allo yogurt Comunque non è un prodotto nuovo E' già c'è tipo da quest'estate se non erro Però lo abbiamo preso perché lei non l'ha mangiato E perché oltre a questo ne è uscita una nuova versione Io non l'ho mangiato Che è la versione mirtillo e cranberry Io comunque questo qui ne ho mangiato Quindi siccome loro non hanno assaggiato questa Quella la versione insomma Allo yogurt al limone e quant'altro E questa qui nessuno dei tre Giusto? Questa nessuno dei tre Esatto è nuova Io Apriamo Io sinceramente rispetto al kinder fetta al latte normale Preferisco il kinder fetta al latte normale Loro ora non lo so cosa diranno Il prezzo lo conoscete Il prezzo della versione nuova E' la stessa di questa vecchia 3, 2, 1, 4 Sto colarmi un rotondo Non mi piace A me lo parto pure per pagare Sta troppo secca Vabbè è uguale Si blocca E' uguale Vai a prima e il secondo Andiamo con l'altro Mirtillo e cranberry Perché scrivere è mirtillo e cranberry Cioè mirtillo è italiano E cranberry Ma sei sicuro che è? C'odore C'odore Cranberry che sono? Intendono questo E con l'altro intendono questo Perché se no c'è quello grosso e quello piccolo Ah dici tu O quello rosso e quello Ah giusto perché il mirtillo dovrebbe essere blueberry E cranberry dovrebbe essere il mirtillo però persino il rosso Sì è buono Però sarà lo stesso di quello di prima Vediamo dai Io questo non l'ho mangiato Quindi è nuovo anche per me Assaggiamo 3, 2, 1 Siccome invece è un po' di più Ma per l'interno Comunque sono tutti due che tendono all'aspro Sì ma non è lo yogurt Però gli amano di più Perché alla fine sono tutte e due a crema di yogurt Perciò è normale che sia così Però il limone è il tra più aspro dei mirtilli Sì Quasi c'è più dolcezza che questi Se avete preferito dei due Secondo Secondo Tu Secondo Primo Tutte e due Insieme Vabbè sono tre cose diverse Vai andiamo al terzo coso Andiamo al terzo dolcetto Andiamo al terzo Anche queste non sappiamo se sono novità Però non le abbiamo beccate Vabbè c'è scritto novità Però non so da quanto è novità Infatti Vai Allora in genere a me le aribo non mi fanno impazzire Come caramelle Beh sì Ah c'è scritto aribo Comunque queste sono zenzero e limone Ah sì non abbiamo detto Aribo, zenzero e limone Aspetta queste quanto le abbiamo prese? Un euro Un euro? Un euro? Un euro? Giù di lì Un euro è qualcosina Regia fa la pinza Prego regia La regia partecipa insieme Dove aspettare Testa Vai Sono buona Ma che concezione ti buona hai? Ma io pure me lo chiedo Vabbè sono dolci Sono aspre Sono dolci Sono aspre Le sento dolcine Le sento dolcine un po' Sono frutta Ma non piacciono Vabbè diciamo non fanno schifo Stanno di limone No sono di limone No sono di limone e hanno quel pizzichino di zenzero Allora la regia è tutta rossa Sta la rimando E a questa faccia A me lo zenzero piace perché lo utilizzo specialmente nelle tisane ma queste mi fanno proprio Da qualche giorno da Oshan o Aushan abbiamo visto che ci sono diversi marchi che fanno queste bibite questi succhi di frutta questi frullati concentrati quello che è Abbiamo detto proviamoli facciamo un video assaggio Vado al primo Allora il primo è this E contiene zucca, carota, mango, limone, mela, maracuja e uova Che al primo momento li parlavo lo stavo raggiando Ho detto uova Giusto o sbagliato Frullato 100% veggie Mango, mela, zucca e carota Però in realtà ci sono molti altri più Che sono ingradianti Limone e il marasiuca Maracuja Maracuja Ma così senza bicchiare Così No ma guarda come l'hanno Cioè l'ho messo proprio sotto le cose Devi infidare l'inghio Che cazzo ha? Ti hai visto? Vabbè diciamo dai Scegheriamo, scegheriamo, scegheriamo Sbattilo un po' Sbattilo un po' E' tutto E' tutto Pronto? Fatto in casa? Per me sa solo di... Cioè si sente principalmente una cosa E' buono Sa di succo di frutto? Si sarebbe... Cioè si sente che... Non l'acee E' il multivitaminico Esatto Sa tipo di multivitaminico Si Anche dall'odore mi ricorda questo Quello che han detto Si Si Sobvia un multivitaminico Solo che magari ha un po' meno di zucchero No è senza zucchero Cioè è molto meno zuccherato In teoria è solo zucchero, è tutto naturale, con lo zucchero, allora contiene solo zucchero delle piante, non c'è zucchero aggiunto, eh, procediamo all'assaggio di un'altra chicchetta, stiamo parlando delle Kittles, allora c'è il gusto limone, black carrot, allora sono delle caramelle al gusto frutta, i frutti sono limone, ribesnero, lime, orange e strawberry, ok vai, procediamo all'apertura, no, mi sai che è cazzo, sembra uno Smarties, ma anche infatti te la foto, però fanno odore di frutta, guarda, 3, 2, 1, oddio, questo è lime giusto, allora sembrano delle mini mentos, ma cosa va dentro? Sì dentro è tipo più morbida, io mi aspettavo dalla forma che dentro ci fosse cioccolato come gli Smarties, no, è la frutta che ci mettono il cioccolato, no, tipo cioccolato fruttato qua, quello verde lime, quello giallo limone, vai, 3, 2, 1, fatto saltare in aria, questo è più aspra, è il limone, dovrebbe essere più aspra il lime, questo è più dolce però, alla fine, andiamo con questa, che è, black, ribesnero, ribesnero, 3, 2, 1, buona, 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 è sempre la stessa, ora vediamo fragole, fragole, so bene le fragole, no, la mia preferita è è fino a ora ribesnero, ci manca l'arancia, si, ah ok, 3, 2, 1, buona, ma se tu metti 3, 2, 1, non è molto aranciosa, la mia preferita sono il, queste, ribesnero e fragola, ribesnero al primo posto e fragola al secondo, ok adesso torniamo alle bibite, va al frutta la natura di prima mano, regia, stiamo parlando di un altro frullato 100% veggie, veggie, questa volta pera, finocchio e zenzero, inoltre c'è la mela, doccia di lime, aspetta, lo spieghiamo e la seconda volta che lo apro, lo doro e lo richiudo, adorano, o sono io che ho problemi la sali qua, zenzero, 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 ah ok, non sono io spastico, io così con questa non ho sentito niente, sento solo, ho sentito solo lo zenzero, forse perché ho avuto uno qua una sola volta, oppure perché è quello più forte rispetto alla pere e al finocchio, e sento anche lime, c'è quel pizzico di aspro che si sente, il finocchio un po' lo sento no mi piace, dall'odore si sente zenzero e pera, lo senti il finocchio? no, dal sapore non sento quasi niente di quello che sento con l'odore, è totalmente diverso, tu sento solo lo zenzero? io dall'odore sento zenzero e pera, dal sapore un poco di zenzero, ma rispetto, cioè sono diversi, odore e sapore sono diversissimi, io lo piacerei, a me è piaciuto, no a me di più il primo rispetto a questo, vai tipo la pastiglia guascialla, sono rimaste nella storia queste parole, adesso torniamo nuovamente alle caramelle, questa che era la versione normale, è la versione verde, crazy source, non lo so, questi di qua rispetto a quelli in teoria dovrebbero essere più aspri, dovrebbero essere più aspri e hanno dei sapori diversi, dei gusti diversi, infatti ci sono quelli all'ananas, alla ciliegia, alla mela, al mandarino, povero mandarino, e raspberry, io pensavo vi riferivate a quello del lampone, the zoom, sono più grosse secondo me, stanno sempre di smarties, vai partiamo la mela, partiamo la mela, non è quella mela, molto annanosa, eh, un lampone, allora il lampone è quello rosa, e questo alla fine, aspetta quella è sorprendente, quella è puzia, sono cittina io, andiamo vai, 3, 2, 1, io respiro, sono tutte buone, buone, a me le inizie piacciono però alla fine, allora secondo me quasi risultano più vere rispetto alle altre, vai il mandarino, il mandarino, buone il mandarino, andiamo il mandarino, 3, 2, 1, non mi piace, anche questa non è fantastica, andiamo con l'ultima, la viola, eh sì, viola, ciliegia, eh, ciliegia, sì, allora ragazzi, 3, 2, 1, go, ma perché c'è una essa? Gli schizzo ho detto, buona, buona, ma più buona secondo me, buona, ma dove c'è la roba? Eh, buona, perché c'è un'altra acqua, manca il sapore, ma anche il do, cioè le sapore, eh sì, quindi tra queste e queste? No, per me queste, però di questa metterei, allora fare un mix, prenderei queste, le prenderebbe, le butterebbe nel cestino, le le lancierebbe dalla finestra, queste che ci sono vanno benissimo, sono buonissime, però metterei, eh, l'ananas, e la ciliezza, qui, vai le posso, aspetta, c'è la stick quella per chiuderla? Beh, la rimette là, ma sì, tutti anticorpi, tutti anticorpi, dai, no, non può, le gombra, non trova più, aspetta, si deve presentare prima, presentiamo, ultima bibita, il suo nome è 100% frullato, vecchi, va agguita, la natura di prima mano, allora, questa volta, frutti di bosco, barbabietola e carota nera, che è la più strana di tutte, senza volerlo, l'abbiamo lasciata per ultimo, prego con lo zoom, ma ci viene aperto, la natura di prima mano, basta, dai, veloce, vabbè, basta, bravo, dai, gli odori sembrano tutti diversi, a me questo sembra che è un'esplosione di sapore, e poi magari no, no, di quello di cui parlo io, non di quelli, di un altro, non ti piace? è più ammortizzo come sapore, però comunque è buono, che sto guardando io, prevale di più il sapore, ma non riesco a capire cos'è, perché la carota nera non l'ho mai assaggiata, quindi non so che sapore ha, la barbabietola neanche, quindi non so che cos'è questo sapore che prevale, strano, quindi alla fine fra tutti e tre, quale preferite? questo, sì, ma questa è la mia top 3, la mia classifica, ti piace di più questo? primo, secondo, terzo, la mia, immagino, totalmente diversi, e comunque vi ripetiamo di iscrivervi, di, allora Arele è sempre qua, ok, di iscrivervi, di iscrivervi, di iscrivervi al canale, buddy, è più una campanella, mettere like e non dislike, commentare, condividete il video, condividete il video, e fare così, iscrivervi al canale diretto, o di semplicemente il piano, e basta, ciao Ciao! Ciao!